Ancora problemi nei quartieri Noce, Zisa, Calatafimi, Roccella, Belmonte Chiavelli e Bonagia di Palermo. Non è possibile utilizzare l'acqua dei rubinetti per il consumo umano, non si può bere e non si può cucinare. L'emergenza è invece rientrata nel quartiere uditore, adesso alimentato con l'acqua del serbatoio Petrazi. A Monte Grifone, infatti, il problema non è stato ancora risolto. L'acqua non è potabile. In merito alla criticità connessa la presenza dell'alluminio nelle acque in uscita, ha comunicato l'AMAP, i valori, sebbene molto ridotti rispetto all'inizio del mese, non sono rientrati al di sotto dei parametri previsti per le acque pubbliche. L'azienda adesso sta valutando una modifica dei processi di potabilizzazione, escludendo il ricorso di agenti chimici contenenti alluminio. L'eccessiva presenza di alluminio nell'acqua sarebbe infatti stata favorita dalle alte temperature delle ultime settimane.